donne manco a parlarne come barbone però potevo guardarle negli occhi ed erano loro a calare per prima lo sguardo e poi i profumi e scie i flash olfattivi mettono il profumo come per darsi un'anima migliore anima Chanel o Dracar anima pour femme anima pour homme nonostante andassi a docciarmi nel diurno della stazione la mia anima richiamava invece l'aria di una catacomba non ancora venuta alla luce e l'inverno calava la sua sordina su questi profumi afflitti su queste anime in pena